SOS Rezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, non mi ha portato in campagna. Oggi siamo fuori comune a Rezzo, siamo nel comune di Monte San Savino, vado, vado, o torno, vado, accanto ad Alberoro, perché avrete notato passandoci che da anni c'è questa strada che dovrebbe essere una nuova strada, chiusa, è una nuova strada chiusa, completamente terminata, con tutti i segnali, stradali, tutto, però chiusa, c'è i cartelli, guarda, parcheggi, strisce, tutto fatto e non si capisce come mai, cioè non l'hanno mai aperta, inaugurata. Boh, che mancano qualche problema di collaudo, però non so neanche se sfonda questa strada e dove porta, perché vedo che i gas laterali hanno i loro accessi non da qui, o questa analitizzazione è completamente da fare e si è fermato tutto. Eh sì, perché c'è i tubi che vedi che sbucca per un fuoco. In virtù della crisi, quindi è figlia della crisi. Però anche se le case non sono state, magari ci dovevano sorgere altre case qui, però la strada è percorribile, perché non viene aperta? Eh, magari però, se non serve nessuno non la tengono aperta apposta, perché magari l'illuminazione è spenta, e magari c'è una piccola opera da fare. E in effetti, vedi, le aperture che sono al lato della strada ti fanno capire che qui doveva nascere qualcosa. Doveva nascere una notiziazione o delle aziende. Invece è tutto fermo. Non lo so se è una zona artigianale oppure è una zona da civile abitazione. Questa sicuramente niente, è una notiziazione che, quando ha fatto le opere urbanizzazione, è poi mai partita. Mai partita. E mai inaugurata. Purtroppo mai partita. E quindi la lasciamo così. E siccome non serve a nessuno la tengono a giusta. Ma c'è tutti i lampiò. Perché, essendo da fare tutte le fabbriche lateralmente, o le case, non è stata collaudata e quindi il Comune non la prende in carico e non prendendola in carico rimane giusta. Eh sì. Poi c'erano anche questi parcheggi, magari potrebbero anche essere utili, aprirla almeno qui, questo pezzo qui. Eh, sicuramente sì, perché poi la gente più ci sta tanta, vedo un tonno. Poteva essere utile anche per loro. Ma sai, se non è collaudata non può essere aperta. E quindi, perché poi la deve prendere in carico il Comune, dopodiché la manutenzione passa al Comune. Ma se questo non viene fatto, non può essere aperta assolutamente. E insomma, eh. Figli di un Dio minore. Figli di un Dio minore. Figli di un'Italia, di una provincia che non va. Che non va. Senza stamattina parlavo con dei miei clienti del settore orafo, sono veramente scoraggiati. Loro pensano che anche quest'anno ci vedranno altre aziende orafè ad Arezzo, quindi si perderanno altri posti di lavoro perché loro purtroppo non va. Non va, la Fiera di Vicenza ha dato pochi risultati, poche speranze, il mondo non riprende, l'America non riapre i canali e quindi prevedono che anche quest'anno ci saranno grosse problematiche per l'azienda orafè. Il che vuol dire che essendo oggi diventata da un pezzo la prima attività industriale della città, della provincia di Arezzo, avremo ancora posti di lavoro che se ne vanno. E questo è veramente, veramente triste. Con tutto quello che possono fare, tutto quello che possono studiare, però purtroppo l'oro non va più. E se non gira soldi non c'è lavoro, non c'è tutto. Ma torniamo a questa strada in chiusura, la strada di nessuno di Vado nel comune di Monte San Savino, guardate quei bei cartelli. C'ha anche un nome, via Calamandrei. Povero Calamandrei, hanno intestato una strada che non esiste. Povero Calamandrei. Vedi Roma, Firenze, c'era tutto pronto. Roma, Firenze, Fogliano, Arezzo. È terminata l'urbanizzazione, però non è aperta perché non c'è utenza. Non c'è utenza e quindi chiudiamo e la teniamo chiusa all'italiana. Benissimo. Purtroppo non puoi fare altro. La guarderemo come si guarda un quadro, un monumento che passa di qui. Forse sarebbe il caso, non so dove finisce, magari se c'è qualche strada unirla e poter utilizzare per magari bypassare il paese di Alberolo. C'è quel semaforo maledetto, ci sta mezz'ora. Ma chi ce l'ha messo? Ce l'ha messo il comune di Monte San Savino. Vai, lasciamolo fare. Anni fa, ma non c'era bisogno di quel semaforo. Ma dai, 70 semafori ci ha messo. E potrebbe servire sicuramente nella strada che torna verso Mondi San Savino per collegarla e quindi vai a bypassare il paese. Va bene. Chiederemo comunque magari nelle prossime puntate, sentiremo il sindaco, la sindaca come vuole, la Boldrini o la Boldrina, visto che lei ha questa cosa delle femminile sgarbi, la chiama la Boldrina. Sentiremo la sindaca allora per sapere magari di più di questa strada come mai. Va bene. Perché noi telefoniamo. Ok, va bene. Ciao. Ciao.